Se dovessero esserci dei problemi e quindi se il parcheggio non dovesse essere aperto e non dovesse essere messo a disposizione di coloro che vogliono poi fruire di Prato della Valle, siamo pronti a manifestare, a scendere in piazza come abbiamo fatto la settimana scorsa perché per noi commercianti, ma non solo per la città, i parcheggi sono importanti. A Padova non c'è neanche il tempo di archiviare la manifestazione dei commercianti a Palazzo Moroni perché si realizzi un parcheggio alla Prandina che già si profila all'orizzonte un nuovo potenziale fronte, questa volta a ridosso di Prato della Valle in piazzetta Rabin. Nonostante sia praticamente terminato, questo nuovo parcheggio potrebbe rimanere chiuso. Perché? Perché la ditta per quanto pare che deve realizzare il parcheggio poi dovrà anche realizzare il frontone di piazza Rabin e quindi da parte del comune pare che non ci sia la disponibilità a lasciare il nulla osta per l'apertura di questo parcheggio finché non verrà realizzato il frontone principale. I commercianti della zona sono preoccupati e si sono già mossi, vogliono chiarezza e chiederanno un accesso agli atti. È un danno veramente enorme, abbiamo chiesto stamane all'amministrazione chiarimenti perché effettivamente si può aspettare qualche mese ma non si possono aspettare anni.